Ben pallida cosa Cerchio Marina attraverso Attilio M Soggetto Essere e divenire, realtà e illusione, tempo e non tempo, forma e non forma. Tutto questo noi vi abbiamo esposto ma è ancora ben pallida cosa rispetto alla verità sostanziale. Facciamo un altro passo. Che cos'è la sostanza e che cos'è tutto ciò che sta attorno ed è accessorio alla sostanza? La sostanza è di nuovo essere e ciò che è accessorio è il suo esplicitarsi ora in una forma ora in un'altra forma. Ma ciò che rende comprensibile il mio discorso è presupporre che ogni sostanza si riduca a un'unica essenza. Soltanto se ogni sostanza si riduce a un'unica essenza è possibile parlare di accessorietà perché in questo caso la sostanza diventa di volta in volta una forma piuttosto che un'altra forma ma avendo un'unica essenza. E' su questo che io voglio intrattenervi per farvi capire che cos'è il divino rispetto all'umano. Essenza ovvero sia protagonismo assoluto, ovvero sia mobilità assoluta, ovvero sia immobilità assoluta, perché nell'essenza vi è la sintesi della immobilità e della mobilità, intesa in senso assoluto. Naturalmente mi rendo conto di aver introdotto un concetto che a voi sembrerà figli cari, piuttosto inverosimile. Ma come? Fino ad ora avete detto che l'assoluto è e non diviene e adesso dite l'essenza è immobilità assoluta e mobilità assoluta. Che cos'è questo nuovo aspetto che voi introducete? Ecco l'umano, ecco l'umano che ritorna, giustamente, ma è sempre l'umano. Voce della quiete, punto, vaiano, chiocciola, gmail, punto, com, continua Grazie a tutti.